Navigare lungo il Polo, scoperta di libri e autori piemontesi, riparte su iniziativa della Biblioteca della Regione il Battello dei Libri, con la presentazione di alcuni volumi di editori piemontesi. Dal 27 al 30 aprile e dal 4 al 7 maggio, corso giornaliera alle 15.30 con partenza e arrivo da Corso Cairoli. Durante la navigazione, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, saranno presenti l'autore e attori della Fondazione Teatro Ragazzi che ne leggono alcuni brani.